Eder. Mech. Pallister. Eder. Mech. Pallister. Ad altri, capisco che qualcuno cerchi il piattino di lenticchie di qualche commissione committente ma non esageriamo. Il primo riferimento è a tali Max Parisi e Igor Patruno, i quali ammettono che Ivana Core hanno dei coinvolgimenti per le questioni chiavi, Agendina Lavazza sulla scena del delitto. La buttano in cacciara per confondere l'opinione pubblica sulla questione sangue dell'assassino gruppo ADQ-4-4. Si arrampicano sugli specchi e sugli ascensori per dimostrare che il sangue sulla porta ha il nome genetico dell'assassino. Stanno allevando una balla enorme sull'arma del delitto. Evitano di darmi ragione sul fatto che l'assassino abbia colpito per 30 volte la vittima con la mano sinistra. Mischiano situazioni, contesti e nomi senza logica e senza scienza, giusto per rosicare di meno. Fra qualche giorno darò una risposta a tutte le imprecisioni che hanno proferito, sembravano il gatto e la volpe colluviani, e sarebbe il caso che Max Parisi abbia una confutazione diretta con me. E lui sa benissimo il perché. Il secondo video è di una signora che vive nella contraddizione perenne fra quello che dice ed ha detto e fra quello che fa ed ha fatto. Addirittura rimprovera la procura di Roma perché sbagliò nell'accusare Raniero Busco e la loda perché ha rimproverato l'informativa dei cicci che accusano Mario Vaniacore. Il metro di valutazione della suddetta è ovviamente il suo sacro pensiero col motto Chi la pensa come me ha ragione. Attenzione, io non sono d'accordo su alcuni passaggi inferenziali e investigativi dei cicci relativi la loro informativa e non mi pronuncio sulle loro conclusioni in quanto ignoro i passaggi logici e i loro dati. Info investigativi. Certo è che loro sono partiti dalle mie indicazioni dei dati oggettivi della vicenda. Assassino sangue adico alfa 4-4, mancino, territoriale con opportunità e possibilità particolari. Questioni agendina alla bazza ed altre ancora, per poi navigare troppo liberamente e in modo che critico. A Mario Vaniacore dico ancora che è sfortunato a possedere diverse caratteristiche dell'assassino di Simonetta, e lo invito ancora una volta a collaborare con gli inquirenti per farlo catturare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Edel McCallista! Grazie a tutti.